Eccoci qua, siamo in macchina Si, punisci il parabrezza Da tutte le cagate che vediamo in giro, ascoltate le cose giuste Allora, è arrivata da un nostro follower una domanda Che lo fanno impazzire i suoi clienti La differenza tra attrezzatura prevista dal titolo ter del decreto legislativo 81-2008 E macchina della direttiva macchine Cos'è un'attrezzatura, cos'è un macchinario Domanda difficile Le attrezzature sono un grande insieme dove dentro ci sono i macchinari Le attrezzature possono non essere marcate CE Fammi un esempio di attrezzature non marcate CE Un cacciavite, una scala, un carellino Tutto ciò che ti aiuta a lavorare Un trapano? Si, ma è marcato CE E' un'attrezzatura E se è un trapano elettrico? E' sempre marcato CE ed è sempre un attrezzatura Invece la macchina è qualcosa che si muove Azionata da una fonte di energia Giusto? La macchina è marcata CE Perché c'è una direttiva che si chiama 2642 Le attrezzature non è detto E se non sono marcate CE Qual è la direttiva? Se non sono marcate CE C'è una direttiva del 2009 Europea Mi pare sia la 104 Che parla della sicurezza delle attrezzature di lavoro Si, perché stiamo parlando di prodotti che ti aiutano a lavorare Esatto Quindi qualsiasi cosa venga usata in una fabbrica Un luogo di lavoro per lavorare E' un'attrezzatura Potrebbe ricadere sotto una direttiva bassa tensione Compatibilità elettromagnetica Potrebbe essere uno strumento a raggi X Non lo so Non ha detto che sia una macchina Se ricade sotto la direttiva macchina E' una macchina CE Come macchina Ok Speriamo Dai, puliscio ancora Ciao